pronto per il calcio d'inizio direttore di gara contro gli ultimi dettagli e lo sporting bisanzio a battere il primo pallone del match migliorini riesce ad allargarla per il destro che rimane lì poi una doppia parata avanti lo Shakhtar Donner il mancino da parte del numero 92 Coltorti che però termina sul fondo e non impensierisce il portiere avversario Morpurgo gran giocata del numero 11 che poi allarga dove c'è il destro altissimo da parte del numero 13 Calvani Calvani dentro per Cutrera il pallone rimane lì Cutrera da seduto cosa ha fatto il numero 90 99 si è inventato un gol da sdraiato Cutrera di Mastro Marino che serve migliori grande sponda che azione qua da parte dello sporting che va vicinissimo al gol del pari grande azione qua di accipicchi al destro da parte di Ricci viene murato poi da un difensore avversario termina qui la prima frazione Cutrera difesa del pallone con una gran sponda per Morpurgo il destro che termina lato pallone buono gran sponda di Cutrera e si divora il gol il numero 9 Cisa 6 Morpurgo che è giocata da parte del numero 11 che poi cerca uno scambio con Cutrera il pallone però rimane lì Morpurgo e c'è la parata Cutrera grande sponda sta facendo una prestazione perfetta Cutrera e qua il pallone è buono per Cisa che si divora il gol ancora una volta altro errore di Cisa troppo impreciso sottoporta calcio di punizione per lo sporting il destro dentro c'è una gran risposta di Angelinetta che viene anche colpito da un avversario Monti prova al destro il pallone che però termina alto c'è calcio di punizione già battuto da Morpurgo Cisa che è giocata del numero 9 si sposta il pallone sul destro cosa ha fatto qua Cisa è andato vicinissimo alla rete del 2 a 0 Cisa per Morpurgo la mette dentro Morpurgo che con questo tiro cross dà l'illusione del gol ma il pallone è terminato fuori sul calcio di punizione parte il numero 8 respinge in due tempi Angelinetta che poi preferisce saggiamente aspettare prima di far ripartire i suoi Cisa allarga il gioco grande numero qua da parte del numero 37 Pignataro che poi mette in mezzo un grandissimo pallone a Morpurgo che si divora il gol del 2 a 0 Morpurgo qua saggiamente va proprio dal numero 37 Pignataro che allarga per Cisa a tu per tu con portiere Cisa ancora una volta però la spara addosso all'estremo difensore avversario altro ennesimo errore della partita di Cisa adesso Cisa lancia Morpurgo vediamo se riesce ad agganciarla al numero 11 riesce a tirare stavolta ancora una volta anzi il pallone termina a lato dando l'illusione del gol Mastromarino le ultime speranze del numero 22 questo destro un po' troppo pretenzioso anche se non aveva troppe altre alternative corner battuto da Morpurgo c'è una deviazione che termina fuori e qui il direttore di gara sancisce la fine del match vince ACP che a 1 a 0 grazie al gol di Cutrera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti